Musica Chi è che è una smart dissident? Non c'è bisogno di usare i telefonini o niente ormai, bisogna solo impegnarsi ogni giorno in piazza, in strada a Firenze, guarda, siamo qui, dovunque siete voi, impegnati a cambiare il mondo perché possiamo farlo qui e ora anche senza smart phones. Global Voice, noi lavoriamo molto in questo senso, lavoriamo molto in background, non abbiamo né smanie di visibilità o di diventare importanti o famosi. Tutto il lavoro è gratuito, volontario, per esempio io stesso passo moltissime ore al giorno facendo editing nella maniera più sporca possibile, nel senso che devo mettermi lì ore a curare le virgole, i punti dei post, sentire se l'articolo, verificare se l'articolo è corretto. C'è un gran lavoro di base che purtroppo molti invece, ovviamente, Twitter star italiani non fanno. La tecnologia può aiutare però di nuovo, specialmente qui, un sacco di gente la usa tantissimo in modo che non vale la pena, insomma, bisogna smettere con la tecnologia e usare molto più coraggio e amore e stare insieme. A noi Global Voice siamo molto invece una community, infatti non ci definiamo nient'altro che una community di 400-500 persone sparse nel mondo. Ci vediamo ogni tanto, ci sentiamo online, ma le nostre mailing list sono piene zeppe di avvisi. Happy birthday, oppure quando ci vediamo facciamo un incontro, un meet up ad Amsterdam, a Roma, a Torino, in Kenya. Più giocato sul tenersi in contatto, far qualcosa, ma contemporaneamente rimanere umani. Più giocato sul tenersi in contatto, far qualcosa, ma contemporaneamente rimanere umani.